Non rinuncio facilmente a pane, pasta, dolci. Molte persone cedono all'impulso di mangiare dolci e spesso trovano molto difficile controllarsi. Le cause più comuni di questo impulso sono squilibri ormonali o sintomatologia mestruale. Può essere utile in questi casi sostituire i cibi dolci con la frutta, anche una banana matura, ed incrementare la quantità di proteine nell'alimentazione. Quando il corpo sembra assetato di zuccheri, spesso in realtà ha bisogno di proteine. Le nostre tisane specifiche possono darci un valido aiuto nel placare la necessità di dolce.